Assessore Viale, il futuro della sanità imperiese con un incontro sull'ospedale unico oggi alla Camera di Commercio? Sì, sono incontri importanti quelli che sto facendo da un po' di mesi sul territorio dell'imperiese perché spiegare ai cittadini la valenza e l'importanza di avere un ospedale nuovo a Taggia è fondamentale anche dal punto di vista della conoscenza del funzionamento del sistema sanitario. Oggi abbiamo due stabilimenti e già un unico ospedale che vede ripartito su reparti a parecchi chilometri di distanza uno dall'altro l'emodinamica Sanremo ad esempio e la Stroke Unit ad Imperia. Già oggi quindi abbiamo un modello organizzativo non efficiente senza contare anche la distanza dalla pista di atterraggio dell'elicottero nei casi di emergenza sia a Imperia che a Sanremo. Tutte queste disfunzioni, oltre alla vetustà degli edifici, che sì che l'azienda sanitaria fa continui interventi di manutenzione e ristrutturazione ma è chiaro che la realizzazione di un ospedale nuovo farebbe venire meno tutte quelle problematiche anche dal punto di vista del risparmio energetico, della sostenibilità e dell'ottimizzazione dei reparti anche con una ricaduta positiva sul benessere organizzativo dei lavoratori senza dimenticare la possibilità dell'attrattiva dei medici perché oggi come oggi la carenza di medici, che è un problema nazionale, si sente particolarmente in questo territorio. Quindi l'ospedale nuovo ha veramente un obiettivo importante e strategico anche per lo sviluppo non soltanto di quella che è la materia sanitaria ma anche dal punto di vista territoriale ed economico perché questo territorio si può riappropriare di quella vocazione sanitaria che aveva un tempo il mantenimento dell'ospedale a Bordighera, la realizzazione di un ospedale nuovo e anche il recupero di strutture con una vocazione riabilitativa potrebbe veramente far diventare questa area come un fiore all'occhiello di tutto il sistema sanitario Ligure. Quando riguarda lo stato dell'arte, a che punto è il progetto? Il progetto, come sapete, è stato inserito dall'INAIL in base alla legge finanziaria del 2017 nell'elenco delle opere da finanziare grazie all'INAIL e quindi ritengo che siamo arrivati a un buon punto c'è tutto il rispetto del codice degli appalti per quanto riguarda il progetto esecutivo che deve essere messo a gara e poi la realizzazione dell'opera anche qui con la procedura ai sensi del codice degli appalti quindi attendiamo questi percorsi ma devo dire che abbiamo intravisto una strada e anche in base a questi incontri abbiamo affinato tutto quello che è il potenziamento dalla rete di emergenza urgenza perché la preoccupazione dei cittadini era quello di come farla raggiungere all'ospedale di Taggia ma nel corso degli incontri tra l'automedica in più la seconda base degli elicotteri ad Albenga e l'apertura di un punto di primo soccorso a Imperia queste preoccupazioni verranno meno.